Siamo qui presso il concessionario spazio di Ghella di Stura con i vincitori del concorso finale. Nel nostro giornale Torino Cronaca abbiamo Lucio e Silvia. Lucio e Silvia hanno deciso di comprare una macchina, lo vedete qui, bellissima macchina gialla, una Toyota. Chiediamo a loro. Come mai avete deciso di comprare una macchina? Abbiamo scelto la macchina perché comunque abbiamo un'auto molto vecchia, un vecchio pandino del 2000, verde. Quindi diciamo che è stata l'occasione giusta per poter cambiare auto. È stato proprio un regalo. Un regalo di Natale. Un regalo di Natale. Alla fine è arrivato al momento giusto. Allora buon Natale dalla reazione. Grazie, buon Natale anche a voi e ancora grazie a Torino Cronaca per questo regalo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.